Ciao amici, buongiorno a tutti quanti, siamo qui al Moto Days con Davide Sirpe che ci aggiorna e ci presenta la sua nuova stagione in scella, la sua nuova MV, ci anticipa un po' quello che sarà questa nuova avventura. Ciao allora ecco oggi parte diciamo il 2017 nella presentazione della moto, dei colori e faremo il campione italiano che partirà il 22-23 aprile a Dimola e noi con il resto partiremo il fine marzo, probabilmente Misano stiamo ancora un po' vedendo e ecco il team, la struttura è quella dell'anno scorso, il team Extreme Racing Service, stesse persone, stessi tecnici, grandi tecnici ovviamente perché tanto è una squadra quindi se non funziona tutto non facevano quello che abbiamo fatto l'anno scorso, senza test, senza niente. Ricordate il famoso passaggio sull'erba a Cuciello di questo pazzo scatenato? Sì, sarà chiusa l'arena lì eh! Probabilmente faremo delle wildcard del mondiale, se una volta ancora stiamo decidendo quali, probabilmente Misano, quella di luglio, giugno in luglio e ecco, quella è la più probabile per adesso e poi stiamo vedendo come aggiungerne delle altre in base ovviamente al budget, non so, stiamo operando secondo me una bella struttura e stiamo mettendo insieme tutti i pezzi per fare una grande stagione, ecco, poi quello che viene lo vedremo, tanto daremo sempre il massimo. Allora, padiglione numero 4, come vi siete allestiti? Ma allora, noi siamo all'interno di Bardal, siamo diciamo oggi ospiti di Bardal e ecco, hanno avuto il piacere, visto che è il main sponsor di quest'anno, Bardal, infatti la moto sarà gialla e nera e hanno avuto, ci hanno chiesto la cortesia e ovviamente per noi è un piacere, un privilegio, insomma, stare qui in mezzo a loro e soprattutto per tutti i giorni della fiera. Anticipavamo questo padiglione e questo stand dove siete allestiti e c'è la nuovissima moto, che cosa c'è di diverso rispetto a quella dello scorso anno? Allora, è diverso, diciamo, la cosa principale che risalta agli occhi è il colore, ecco, sarà Bardal del main sponsor, quindi ecco, la moto, la vedete, è gialla, nera e veramente bella. E al di là di quello, diciamo, come struttura tecnica di tecnici è rimasta praticamente invariata, c'è solo un ragazzo che è passato in moto 2 nel mondiale, quindi non sarà più per noi per il fatto delle concomitanze e abbiamo cambiato solo per il ragazzo lì. Perfetto, i tuoi genitori si seguono sempre ai tuoi cari? Sì, 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 stanno sempre in giro, ecco. Oggi stanno qui come ospiti, staranno bruttati da qualche parte, immagino Arancini, quelli si giochiano. Allora, dal Monodays per adesso è tutto. Io e Davide Silve vi salutiamo, un grosso in bocca a lui per questa grande stagione. Grazie a voi che ci seguite, grazie a Cristiano Schamberga Power, come sempre, è immirabile. Continuate a seguirci, grazie. Grazie, grazie mille, ciao ragazzi. Ciao. Grazie a tutti.